Si è svolta nella spendita cornice del castello medicio di Ottaviano, resa viva dai mercatini di Natale organizzati dalla Proloco, la seconda ed ultima tappa del Lacrima Christi Testing Concept 2015. Organizzato dall'Associazione Casa Vesuvio con il padrocino della città metropolitana di Napoli, del Parco Nazionale del Vesuvio, della Feder Consumatori di Legambiente Campania, la manifestazione ha visto la partecipazione di nuove aziende vinicole del territorio che si sono contese a favore della giuria composta da consumatori medi di vino e non da esperti che hanno valutato, oltre ai classici aspetti tecnici, anche la credibilità nella casa vinicola, l'etichetta, la completezza delle informazioni in essa contenute, nonché il rapporto qualità-prezzo. Il Lacrima Christi Bianco più apprezzato è il risultato del Vignala Pilo del 2014 delle Cantine Sorrentino, mentre tra i rossi è emerso il gelso nero del 2011 dell'azienda Villa Dora. Alle due aziende è stato consegnato il marchio Casa Vesuvio Oro 2015, un cosiddetto marchio partecipato perché attribuito direttamente dai consumatori finali. Obiettivo della manifestazione è quello di promuovere un prodotto di eccellenza del Vesuvio, mettendo in relazione le case vinicole direttamente con coloro i quali effettivamente poi comprano vino. Quest'anno il contest si è svolto in due località dell'area metropolitana, L'obiettivo del prossimo anno è quello di portare in giro questo evento, questa manifestazione in tutta la campagna e in tutti quei contesti appunto dove il vino è protagonista. Il Lacrima Christi è un vino storico che ha una storia appunto millenaria che porta con sé la cultura del Vesuvio e la storia del Vesuvio e con questa manifestazione noi vogliamo ovviamente dare, fare una promozione in particolare per i piccoli produttori di Lacrima Christi e quindi portarli fuori dal territorio. Dopo anni in cui l'immagine del Vesuvio nel mondo è stata purtroppo quella di un enorme discarica, ha affermato il vice sindaco della città metropolitana Elena Coccia, è arrivato il momento di realizzare la testa, di far conoscere a tutti la qualità e l'eccellenza dei nostri prodotti. Mentre il consigliere delegato all'agricoltura della città metropolitana Paolo Avitabile ha sottolineato che è necessario sostenere tutte le attività inerenti all'agricoltura perché essa costituisce il primo presidio per la salvaguardia dell'ecosistema e per la prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico purtroppo piuttosto frequenti sul nostro territorio.